Tirolo Questo è il Tirolo, la nostra terra. Paesaggi di montagna incontaminati, prati e alpeggi rigogliosi, acqua cristallina e aria pura dei monti tirolesi. Il Tirolo ha molto da offrire e a noi piace concederci momenti di tranquillità e goderci le nostre specialità tirolesi. In Handel Tirol utilizziamo da sempre soltanto la carne migliore e le più pregiate spezie naturali. La nostra inventiva ci spinge a sperimentare sempre nuove strade. Anche in questo ci affidiamo alla nostra esperienza, al nostro istinto e alla qualità dei nostri ingredienti selezionati. E facciamo tutto questo dal 1902. Fu proprio allora che il bisnonno Karl Zuprian Handel inventò qui nell'Oberland tirolese il tradizionale boxele, la confezione doppia. Da allora sono cambiate molte cose, ma non la produzione artigianale delle nostre specialità originali tirolesi. Noi della Handel Tirol utilizziamo ancora oggi esclusivamente il miglior legno di faggio per affumicare. Perché il fumo di faggio esalta alla perfezione il sapore delicatamente speziato delle nostre specialità di salsiccia cruda. Perché ci vuole pazienza per sapere aspettare che i nostri Camin Vorto, l'Antiega o le nostre salsicce di montagna stagionino in pace. E quando arriva il momento giusto, controlliamo personalmente il risultato del nostro lavoro. La consistenza, il profumo e soprattutto il tipico sapore. Tutto deve essere perfetto. Poi, soltanto quando siamo soddisfatti, ci prendiamo anche noi il nostro tempo e ci godiamo le nostre specialità tirolesi e la natura del nostro Tirolo.